Ciao a tutti ragazzi sono Yaki Dale e oggi siamo qui in un nuovo episodio della serie della scalata a 4000 trofei su Clash Royale Finalmente stiamo iniziando a salire in maniera abbastanza decorosa, infatti siamo a 3445 Che incredibilmente tra le altre cose è il mio record che ho appena superato Tra l'altro volevo superarlo in questo video, mi sono completamente dimenticato e quindi è successo così Fatto sta che sto usando questo deck con cui mi sto trovando alla grande Un deck veramente economico, abbastanza difficile da usare con il domatore principalmente Che come ben sapete fin dai tempi di Clash of Clans è una delle truppe che odio di più Non chiedetemi perché, fatto sta che l'ho rivalutata e devo dire che ci sta, ci sta, ci sta Non perdiamoci però in chiacchiere, vi faccio vedere subito come funziona questo mazzo Siamo contro un italiano, Dima, livello 10, vediamo cosa riusciamo a fare Allora è un mazzo molto veloce quindi bisogna puntare su attacchi proprio veloci Chiaramente adesso abbiamo le carte più sbagliate che potevano capitarci per partire Quindi non so benissimo cosa fare Però, allora, la regina sicuramente... ah ok, lui ha il mastino Quindi noi dobbiamo fare una sorta di attacco veloce di là per vedere come controbilanciarlo Così lui per forza deve difendersi di là, vedete? Ok, 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 ha usato il mega sgherro, sì, un po' di danni li rifacciamo Non male, assolutamente non male Qua mettiamo un'altra principessa, perfetto, la mettiamo di là stavolta Ok, perfetto ragazzi, perfetto Sì, 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 non dovrebbe essere particolarmente un problema Cos'è? La gatta... ok, 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 ci siamo difesi Sì, dai, più o meno sì Adesso spiritello, domatore E perfetto, perfetto, perfetto Non dovrebbe riuscire a difendersi Dai, 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 dai domatore, dai domatore Perfetto, molto, molto, molto bene Adesso però dobbiamo difenderci Perché comunque non siamo messi benissimo da questo punto di vista Il mega sgherro lì non farà troppi danni Noi proviamo a fare di nuovo un attacchino così veloce E teoricamente forse basta per tirare giù la torre Sì, 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 molto bene A questo punto dobbiamo cercare A. Di mantenere il vantaggio E. Di provare a distruggere anche l'altra torre Non sarà troppo facile Però si può fare perché lui è al mastino E comunque ha un attacco molto, molto lento Infatti, vedete, se lui è attaccato da di là Teoricamente noi dovremmo riuscire già a impensierirlo Allora, lui fa così, noi facciamo così per difenderci Poi possiamo decidere di mettere i barbari qua Poi vi spiego perché Perfetto, ok, 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 dai Benissimo, almeno gli sgherri prendono i colpi Sì, ok, 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 ok Bene, ma non benissimo, dai Allora, lui la mette il cimitero Sì, ok, possiamo provare a difenderci No, 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 no Male Sì, 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 ok Allora, ok, dobbiamo attaccare tutto Sì, 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 11 secondi Noi la tiriamo giù Lui non credo che riesca a tirarcela giù Anzi, non ce la fa Ragazzi, ragazzi, ragazzi È dura, è dura No, 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 non fare cavolate Iachi, no No, 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 no Ok, ragazzi, dobbiamo rischiare E non poco Sì, 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 dai Dai, 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 dai Dai, domatore, dai, domatore, dai, domatore Sì, 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 sì Benissimo Mamma mia Abbiamo rischiato un pochino Però alla fine ce la siamo portati a casa, dai Non è affatto male, non è affatto male 3474 trofei Se riusciamo ad arrivare sopra i 3500 Siamo dei signori E tra l'altro, ragazzi, è appena passata mezzanotte Quindi c'è la nuova offerta C'è il boscaiolo Sì, non è che ce ne facciamo molto Quindi possiamo anche lasciarla lì Sarebbe interessante anche acquistare il domatore Però non credo che riusciremo a farlo a livello 9 Entro i prossimi anni Quindi potrebbe essere un problema Vediamo di fare sta benedetta battaglia E vediamo cosa succede Dai, speriamo in bene Altro livello 10 Ormai a questi livelli possiamo anche dirci fortunati Se troviamo un livello 10 E ci proviamo subito la nostra combo Con i goblin lanceri dietro Che di solito va alla grande Però lui ha i barbari, giustamente E quindi facciamo così Perfetto Come prima ondata non è che potevamo farci molto Allora lui ha il domatore Quindi quando lui ha il domatore Lui inteso come avversario Ragazzi, io vi consiglio sempre di tenervi un pochino di elisir Ok, ok, ok Allora facciamo questo attacchino Sì, bene Ok, l'altra torre Sì, 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 sì Bene, un po' di danni Stiamo facendo con quello sgherro lì Tanta, tanta, tanta roba Anzi, più danni del previsto abbiamo fatto Così È una mossa che in realtà non mi piace per niente Però tipo Ecco, lui ha la palla di fuoco Quindi abbiamo limitato i suoi danni Teoricamente Adesso possiamo fare così E vedere cosa succede No, uffa Ho sbagliato, ho sbagliato, ho sbagliato, ho sbagliato Ma, sbagliato mica tanto Perché in realtà non è stata una bruttissima mossa Vediamo se riusciamo a tirar giù la torre Dai, pronti con la scarica Eventualmente, però non dovrebbe servire Perfetto, perfetto Ragazzi, siamo a cavallo Vedete cosa intendevo con questo mazzo È veramente forte Cioè, se riesco io Che come ben sapete Non sono capace a giocare A giocare bene Vuol dire che evidentemente Un minimo deve funzionare Allora, proviamo sta cosa Che non è che sia il massimo Però, almeno lo distraiamo un po' Perché il problema è che Se voi non attaccate Difendervi non sarà così facile Vedete che lui comunque danni li sta facendo Quindi, non lo so Forse riusciamo a tenere la torre Dai, 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 dai Perfetto Speriamo, speriamo Al limite possiamo anche provare A fare una cosa di questo genere Se proprio non vogliamo rischiare Sì, 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 sì Perfetto Così noi gli tiriamo giù la torre Anzi, no, è finita Fantastico Benissimo, benissimo, benissimo Altri 29 trofei guadagnati 3.503 ragazzi Ci stiamo avvicinando Chiaramente siamo a record Non c'è niente di entusiasmante Uh, possiamo anche chiedere Cosa chiediamo? Eh, mi servirebbero le scariche Però ne ho poche Però, boh Quindi siamo arrivati ai nostri 3.500 trofei C'è ancora molta strada da fare Ma ci riusciremo Spero che il video vi sia piaciuto Mi raccomando Tanti, tanti mi piace Per un prossimo episodio Se avete dei consigli Per mazzi da provare Così o tutto quello che volete Potete scriverlo qui sotto Nei commenti E niente ragazzi Noi ci vediamo Nel prossimo Video Ok, questo non lo vedete nel video Ma è successo che ho fatto altre tre partite E sono a 3.411 trofei E tutto da rifare Che pizza Dai, non è possibile però Eravamo a 3.500 Ne abbiamo persi già 100 Vabbè, dai Ciao